ed eccoci qua eccoci qua sempre di notte sempre in silenzio e sempre con il microfono e la cam accesi allora stanotte parto da un commento che ho ricevuto nell'ultimo episodio nel commento in sintesi mi si dice che faccio bene a seguire il mio istinto ok perché potrei scoprire che nel piano della mia vita è proprio quello che andava fatto è un bel commento e poi ci ho pensato un secondo e ho detto sì il piano della mia vita però io non ho proprio un piano nella mia vita ok merita più che altro è un multipiano ok avete presente quei parcheggi che spuntano come funghi nelle grandi città quelli che si sviluppano o in altezza o sotto terra per questione di spazio quelli che quando entri vai giù giù o su 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 e dopo ti devi annotare il numeretto d3 c4 fila per essere sicuri di poter tornare a prendere la macchina senza dimenticare dove dove è stata messa ecco la mia vita è una specie di parcheggio multipiano molto molto alto o molto molto basso dove io praticamente parcheggio tutto quello che ho tutto quello che ho vissuto tutte le mie emozioni tutto tutto quello che sono io pregi difetti avvenimenti brividi ricordi speranze e cose del genere il problema è che metto queste cose ok le parcheggio per modo di dire perché le metto alla rinfusa ok non riesco ad abbandonare per strada niente metto tutto metto tutto lì dentro e alla fine mi rendo conto che passo il tempo dentro sto parcheggio multipiano a ricercare queste cose a perdermi tra queste cose perché non ho numeretti non ho lettere dall'alfabeto che mi ricordano questo l'hai messo qua questo l'hai messo di là e cose del genere quindi la mia vita praticamente tutta fatta di perdersi dentro a cose vissute a speranze a illusioni a gioie e tristezze in questo immenso labirinto di di tutto di tutto e mi rendo conto che non so mai cioè non riesco ad uscirne ok non riesco ad uscirne perché mi perdo proprio tra queste cose vorrei anche uscirne ma non so nell'infinito cercare un po di ricordi un po di strade nuove un po di emozioni vecchie un po di speranze mi trovo a vagare tra un piano e l'altro ecco questo cos'è il piano della mia vita cercare cercare tra mille ricordi mille emozioni mille speranze quello che comunque quello che comunque sono senza contare un'altra cosa sinceramente piano piano fa pensare a qualcosa di pianecciante ok invece ogni piano da me tutto fuorché in linea oserei dire che ci sono montagne sui miei piani ci sono salite discese su ogni piano è come che se dovessi arrivare a qualcosa che può essere anche una speranza che può essere un progetto un obiettivo dovessi fare le montagne russe ogni volta ok ci sono anche le trappole in questo questo parcheggio multipiano della mia vita dove niente è veramente semplice parcheggio cose mie e dopo per andare a prendermene da fare anche fatica è proprio una quindi il piano della vita è sì piano della vita scoprire io vorrei scoprire l'uscita ok vorrei scoprire come si fa a uscire da sto vortice di emozioni e da sto vortice di labirinti cose del genere e soprattutto se la vita ha dei piani per me mi dispiacerebbe neanche neanche saperli a dirla tutta perché io non ho un piano d'attacco ok non ho un piano non è anche un piano di difesa non piano d'attacco non ho piani cioè che bisognerebbe farli ok bisognerebbe programmare un po di cose bisognerebbe sapere domani cosa faccio dopo domani cosa faccio soprattutto programmi a lungo termine invece mi rendo conto che vivo alla giornata ok la giornata senza piani senza progetti a lungo termine ok quindi piano piano della vita se il piano della vita fatto un bel commento è un bel commento però quando la vita è un parcheggio multipiano tipo quello mio è un po più difficile fare fare previsioni fare calcoli fare sapere anche effettivamente cosa cosa fare questa è la realtà delle cose e buonanotte